Ciao, sono Paola, siamo alla Clé di Paralil, affittacamere, gestito a conduzione familiare. Siamo, è una casa ristrutturata, era una casa dei miei bisnonni che l'abbiamo ristrutturata. Qua siamo veramente in mezzo alla natura, dove ci sono le passeggiate che partono per Cret Sècheo, il rifugio Cret Sècheo, oppure a Lazzà, oppure si può anche arrivare a Plas Moulin, Prarayet, tutto a piedi se uno cammina bene e siamo veramente in paradiso qua. Abbiamo sei camere, facciamo pernottamento e prima colazione.